Una balena si è spiaggiata sull'isola di Sotra, vicino a Beagen, in Norvegia. Aveva dentro lo stomaco una trentina di sacchetti di plastica. L'autopsia effettuata sul corpo dell'animale ha rivelato che l'intestino era stato completamente svuotato da ogni residuo di cibo e che la balena deve aver sofferto molto prima di morire. Il più lungo dei sacchetti misurava due metri. L'autopsia e la morte di questo gigante del mare hanno riportato nuovamente l'attenzione dei media norvegesi e mondiali sul problema ormai davvero allarmante dell'inquinamento dei mari.